Nell'agosto del 2024, il New York Times ha pubblicato una serie di articoli che denunciano diversi abusi all'interno della compagnia di danza classica cinese Shen Yun. Sia gli attuali artisti di Shen Yun che quelli che hanno lasciato la compagnia affermano che gli articoli del Times non sono veritieri. Noi abbiamo deciso di dar voce ai diretti interessati. Io ho intervistato intellettuali di ogni genere, artisti inclusi. A volte, quando vengono travisati da altri giornali, do loro spazio affinché il mio pubblico abbia il quadro completo. Epoch Times è sponsor di Shen Yun da anni. Sono rimasto scioccato da come gli artisti di Shen Yun siano stati ritratti in questi articoli del New York Times e ora saranno gli artisti stessi a dare la loro versione dei fatti. Ho scelto gli articoli e la mia reazione iniziale è la stessa cosa che molti altri danzatori di Shen Yun eravamo veramente sorpresi e triste con quello che abbiamo visto nell'articolo. Ho portato con Shen Yun per 7 anni. Da mia esperienza con Shen Yun, mi sento davvero molto valutante per me. Mi ha chiesto se sei ok, sei felice? E ho detto che non ho mai stato felice nella mia vita. Tu sei direttore d'orchestra ed è un suono davvero unico. Io ho già intervistato i portavoce e gli artisti di Shen Yun, ma questa volta voglio approfondire il vostro dietro le quinte. Grazie a tutti per essere qui. Questa volta ho intervisto artisti che di solito non vengono davanti alle telecamere a raccontare le proprie vite. Parliamo di questi articoli del New York Times. Qui il quadro reale è molto diverso da quello rappresentato dal New York Times. Insomma, qual è stata la vostra reazione? Tristezza e delusione verso questo giornale. A me sembra che questo articolo ci disumanizzi. Noi siamo un meraviglioso gruppo di persone, ognuno con una propria personalità, interessi, hobby e attività varie. E qui invece ci rappresentano tutti sotto quest'atmosfera oppressiva. Innanzitutto è scorrettissimo. E poi è ingiusto. La mia prima reazione è stata «Cosa? Ero spiazzata. Mi sembrava impossibile. Un ambiente che ci ha dato tanto, che ci ha aiutato a crescere così tanto, perché viene infangata in questo modo? E abbiamo deciso di parlare noi, di condividere le nostre storie per smentire quelle falsità. Ricordo che quella sera tutti ci siamo seduti e abbiamo iniziato a scrivere le nostre esperienze fino a mezzanotte. Tanto avevamo da dire. Dobbiamo rimettere le cose a posto. E credo proprio che tutti la pensiamo così. Quando ho scelto questo articolo mi sentivo che ero leggendo un tipo di horror-novela, un lavoro di ficzione, praticamente. Sto dicendo che non ho invalidato le esperienze di qualcuno, ma mi sento che hanno perduto una grande parte delle cose. E' la buona parte, la parte positiva, sulle esperienze che hai ricevuto qui. Because the Shen Yun that they describe is not the Shen Yun that I go to every day. Shen Yun è nato nel 2006, fondato a New York da un gruppo di artisti che praticano il Falun Gong. Volevano mettere in mostra la cultura tradizionale cinese, una cultura che il potere comunista in Cina vuole cancellare. Oggi le compagnie in tour di Shen Yun ballerini, cantanti e orchestre si esibiscono di fronte a quasi un milione di persone in tutto il mondo, ogni anno. In un campus panoramico e remoto nel nord dello stato di New York, Shen Yun coltiva anche il talento artistico con l'Accademia Fei Tian e il College Fei Tian, due strutture educative private affiliate alla religione. Una delle accuse principali negli articoli del New York Times è che Shen Yun avrebbe trascurato cure mediche e creato un clima in cui i ballerini avrebbero paura di curarsi quando si fanno male. Ma i ballerini rispondono che non è vero. Uno deve prendersi cura di un artista di livello mondiale, se pretende quel livello sul palco. Non ha senso arrangiarsi da soli, non esiste. È come dire a Simone Biles, vai a farti sistemare la caviglia, mentre lei è lì che zoppica. Sarebbe impossibile arrivare a certi risultati. Da decenni il regime cinese conduce una feroce propaganda contro Shen Yun e il Falun Gong. Falsamente sostiene che i praticanti del Falun Gong fanno cose dannose, tra cui il rifiutare sistematicamente le cure mediche e di essere degli estremisti. Ora queste stesse falsità vengono ripetute dal New York Times. Scrive che noi balliamo nonostante gli infortuni, ma se ci pensi logicamente, se fosse così, avremo un tasso di abbandono altissimo e perderemmo vari ballerini ogni stagione. Noi dobbiamo mantenere uno standard di massimo livello e sarebbe impossibile con gente che zoppica sul palco. Ovviamente è nostro interesse prenderci cura di noi stessi. Io qui parlo a livello psicologico, perché se non dici a nessuno il tuo infortunio, nessuno lo sa. Ogni volta che facevo sapere ad altri che mi ero fatto male, venivo spostato da certe posizioni. Oppure gli istruttori o il manager facevano di tutto per essere certi che io stessi davvero bene. Ma se non lo dico a nessuno, nessuno mi aiuta. No? Magari ti vedono zoppicare, ma non lo sanno se zoppichi perché ti fa un po' male il piede in quel momento o sei preso una piccola storta oppure se ti sei proprio strappato qualcosa. Ogni volta che io mi sono infortunato, qualcun altro ha alzato la mano e ha detto quella parte la faccio io, non preoccuparti. Esco dal palco a sinistra e rientro da destra. Io penso che si siano fatti quest'idea sbagliata per cui noi, quando ci infortuniamo, non ci curiamo e stringiamo i denti. Non è per niente vero. Io ho molti compagni che a causa di infortuni sono stati portati subito in ospedale. L'ultimo anno che ero apprendista, mentre mi allenavo, ho fatto un salto e nell'atterrare ho sbagliato il tempo e sono caduta. E mi sono slogata la caviglia e la mia insegnante è venuta da me e mi ha detto stai bene? Pensi di farcela? Possiamo cambiare la formazione e sostituirti. Si è successo anche a me. È stato proprio prima dello spettacolo. Dopo un salto sono atterrata e ho fatto un movimento strano e il ginocchio mi ha fatto molto male. E all'istante gli insegnanti si sono avvicinati e mi hanno detto che mi sostituivano senza problemi. Io invece ho chiesto di ballare lo stesso. Poi ovviamente sta a me. Lo so io cosa posso fare e cosa non posso fare. Se sto davvero per crollare, ovviamente non è che spingo solo per dimostrare che ce la faccio. A volte è una rottura, altre è uno strappo. Succede in qualsiasi campo atletico e vengono curati subito. È una cosa normalissima. Non c'è chissà quale mistero. Ma sì, abbiamo kit di pronto soccorso su entrambi i lati del palco. Abbiamo cerotti e garze e mi pare proprio che lo sappiamo tutti come si usano. Siamo molto bravi a parlare dei problemi tra di noi. È sempre un gioco di squadra in cui tutti lavorano solo per aiutarsi a vicenda e per assicurarsi che il pubblico riceva il meglio che possiamo offrire. Paura, abusi emotivi, minacce, queste sono parole ripetute negli articoli del New York Times. Ma gli artisti che hanno parlato con noi ci hanno detto tutt'altro. Per esperienza personale è proprio il contrario. Prima di trasferirmi ed entrare alla Fei Tian e a Shen Yun ero vittima del bullismo a un livello che non immaginavo possibile a scuola e ho dovuto superarlo da solo. Qui la comunità e l'ambiente mi fanno sentire molto più sicuro. La mia personalità è cambiata così tanto che mi sono aperto molto di più. Sono diventato più socievole perché tutti intorno a me sono così aperti e tolleranti e tutti mi sostengono al punto che ho abbassato la guardia. Penso che questa comunità di Shen Yun sia molto preziosa perché quando vedo arrivare persone più giovani io mi sento in dovere di aiutarli come altri hanno aiutato me quando sono arrivata. E so che in molte compagnie artistiche c'è un costante senso di competizione molto intenso. È un most tua vita mea e anche se sei in cima vivi sempre nel terrore di cadere e venire eliminato. In Shen Yun invece noi ci sforciamo davvero di aiutarci a vicenda. Da quando sono arrivata a Shen Yun ho speranza per me stessa. Prima soffrivo di depressione e ho avuto momenti molto brutti nella mia vita. Ma ormai sono superati da molto tempo perché il nostro impegno reciproco è di sostenerci. Tra di noi non esiste competizione. Noi ci spingiamo l'un l'altro a migliorare. Il nostro è un clima molto sano. Passando agli insegnanti in questo pezzo si dice che certi sono durissimi. C'è spazio per la severità. Qui durissimo è usato in modo non veritiero per mia esperienza. Io sono in Shen Yun da più di dieci anni e non ho mai sentito coercizione. Anzi, io ho sentito una guida. Io sono stato guidato oltre il mio limite. Mai forzato oltre il mio limite. Il mio istruttore mi fa una critica? A volte è difficile da accettare. Certo che le critiche sono difficili da accettare. Ma non è mai una cosa tipo non vali niente come persona. Ha fatto. E fai così per migliorare. A proposito degli insegnanti. Se per una settimana l'insegnante è molto gentile e paziente e spiega le cose allo studente in modo molto gentile e magari un giorno è nervoso per conto suo e gli escono delle parole un po' più dure. Se quello studente se la prende poi si ricorda solo di quel giorno e ti dice quell'insegnante mi ha sempre maltrattato. Esatto. Ma in realtà spesso non è vero. E molte volte in una classe di danza se l'insegnante di pianoforte suona e per esempio tu ti alzano il braccio destro ma tu stai alzando il braccio sinistro l'insegnante ti dice forte stai alzando il braccio sbagliato. Deve farsi sentire, no? Non è che te lo puoi bisbigliare se non nemmeno lo senti. In classe è così. E molte volte l'insegnante poi viene a spiegarsi magari sono stato un po' più duro prima è stato prima di tutto per farmi sentire e poi perché stavi sbagliando e io voglio farti migliorare. Quindi c'è molta comunicazione tra insegnanti e studente. Non è certo una cosa unilaterale del tipo qui mi tratto una pesce in faccia e basta. Non è per niente così. E sono abbastanza sicura che se chiedi a qualsiasi atleta olimpico o a qualsiasi persona di successo alla fine della giornata non è che si guardano indietro e pensano vorrei che il mio insegnante fosse stato più permissivo con me così avrei fatto meno bene. Al contrario ripensano a quei momenti e ringraziano i loro insegnanti per averli spinti fin lì. Hai bisogno di uno che ti dica puoi fare di più. Io vedo in te più potenziale di quanto ne veda tu stesso. Questo è un vero insegnante. Uno magari pensa che si tratti solo di fare il ballerino. Ma poi ripensi a tutte le lezioni che hai imparato lungo il cammino. Quando il mio insegnante mi diceva che potevo fare di più di quanto io credessi era vero. e questo poi lo applichi nella vita. Se guardi i fatti da quando è stata fondata Shen Yun è cresciuta da una compagnia a otto compagnie. Andiamo in tutto il mondo. Ci esibiamo solo nei migliori teatri. Se davvero fossimo questa istituzione dipinta dal New York Times come potremmo fare questo? Se ci accusi di costringere le persone a rimanere in questo ambiente che induce paura. Shen Yun sta crescendo. Non è che stia solo galleggiando. Stiamo costantemente migliorando per diventare il meglio che c'è al mondo. Quindi come si potrebbe costringere ogni persona a rimanere e migliorare e rendere l'azienda migliore se fosse come dice l'articolo? Io personalmente non rimarrei mai in un'azienda che mi fa sentire minacciata intimidita e piena di regole assurde. Perché mai dovrei rimanere volontariamente in un posto del genere e per oltre un decennio. Gli articoli del New York Times hanno anche parlato di ballerini messi sotto pressione per dimagrire e umiliati se non ci riescono. C'è qualcosa che per voi è stato estrapolato dal contesto? C'è qualcosa di vero? A dire il vero a me pare che tutto sia stato estrapolato dal contesto. Credo che si sia scelto molto di vedere solo certe cose perché io e altri ballerini maschi leggendo l'articolo siamo scoppiati a ridere. Noi saremo malnutriti? Questa è proprio una barzelletta. Se mi vedi mangiare malnutrito è l'ultima cosa che ti viene in mente. Dovresti vederci al buffet altro che Ma sì noi ci spazzoliamo tutto. Ovviamente dopo bruciamo facciamo un sacco di esercizio. Sì scusa la finisco qui ci sarebbe molto da dire su questo. è anche una questione di nutrizione non è che puoi abbuffarti di dolci anche i ginnasti lo sanno quando hai molto peso in eccesso sul corpo ti grava sulle ossa sulle ginocchia sulle cartilagini ti fai del male se non sei consapevole di come ti alimenti preferisci rovinarti subito le ginocchia o mangiare sano e magari essere in grado di ballare senza problemi per altri due o tre anni. Sì la nostra insegnante ci diceva che una dieta adeguata non è per niente digiunare né mangiare poco anzi lei ci suggeriva di mangiare bene ma di limitare spuntini e merende si potrebbe pensare che i ballerini non mangino niente o che abbiano paura di mangiare ma in realtà non è vero noi mangiamo normalmente però mangiamo sano basta solo avere una dieta sana c'è un paio di altre cose in questo articolo una è Shen Yun tratta molti dei suoi artisti come oggetti da usare e poi la maggior parte dice che si sentiva usata da un movimento religioso interessato alla diffusione della propria visione voi come commentate io penso che sia proprio il contrario perché ho visto spesso la direzione parlare con i ballerini proprio del loro futuro per aiutarli a capire cosa fare dopo loro già pensano a cosa faranno i ballerini dopo ed è stato così anche per me mi parlavano delle varie possibilità per il futuro questo o quello magari la produzione teatrale la vita di un ballerino è molto breve non puoi andare avanti 50 anni come un cantante a 70 o 80 anni puoi cantare ma un ballerino a 30 anni inizia a pensare al dopo quindi è proprio il contrario non c'è nessun usa e getta io al college Faytian avevo seguito un corso di oratorie e dibattito e poi corsi di design digitale Photoshop Illustrator Premiere InDesign niente che centrasse col ballare era per cercare di ampliare le possibilità future c'è lo stereotipo sulle scuole sportive d'elite secondo cui non servirebbe studiare le materie accademiche voi dite che non è così al Faytian gli insegnanti vogliono che gli studenti si impegnano anche nelle materie accademiche anche perché sono in parte collegate alla nostra danza ad esempio io studio storia sia cinese che occidentale matematica inglese eccetera e così in futuro quando non ballerò più sarò in grado di fare un altro lavoro gli artisti mi hanno detto che ogni studente del Faytian ha una borsa di studio completa che copre tasse universitarie libri di testo vitto e alloggio inoltre gli studenti possono presentare domanda per partecipare al tour di Shen Yun per guadagnare crediti scolastici l'azienda copre tutte le spese io vorrei aggiungere che durante il corso di studi di danza non impari solo a ballare ma impari tantissimo su cose come la perseveranza o l'umiltà che poi usi in qualsiasi ambito della vita quindi quando in futuro dovrò scegliere quale altro lavoro fare userò tutto quello che ho imparato qui e sono abbastanza sicura che in qualsiasi ambito queste competenze mi porteranno comunque al successo l'articolo del New York Times dice che voi avete severe restrizioni all'uso di internet sottintendendo che non vi sarebbe permesso comunicare con il mondo esterno che vi tengano isolati io penso che l'articolo faccia un po' di confusione qui una cosa è il Faytian la scuola un'altra è Shen Yun al Faytian ci sono studenti minorenni e la scuola è responsabile per loro però uno dei miei colleghi mi ha detto che il Faytian dà molta più libertà rispetto alla scuola cattolica in cui lui andava prima dove non gli era nemmeno concesso il down phone il vecchio tipo di cellulari c'è un distretto scolastico di Los Angeles uno dei principali che dieta i cellulari ormai si sta capendo che forse così tante informazioni non fanno proprio bene ai ragazzi e questa è la scuola ora ovviamente sono un membro professionista di Shen Yun quindi ovviamente ho la libertà di avere il telefono il computer ora faccio quello che voglio ma se sei a scuola devi concentrarti sugli studi e crescere in un ambiente sano e libero da certe distrazioni sì è un malinteso i membri di Shen Yun possono usare smartphone e computer e avere le proprie famiglie e le proprie vite quindi è un'immagine molto estrema dipinta dall'articolo e sicuramente non la riconosco questo è un collegio e noi insegnanti e i responsabili della scuola dobbiamo in un certo senso prenderci cura dei bambini perché i loro genitori non ci sono questo come college Fei Tian Shen Yun certo io ho un cellulare e posso andare su internet anche adesso senza problemi non è che non sappiamo niente del mondo potrei leggere il New York Times se volessi esatto quindi noi abbiamo accesso ma dobbiamo proteggere gli studenti specialmente i minori sapete è un momento interessante molte scuole stanno appunto proibendo i telefoni c'è questa consapevolezza specialmente con il nuovo libro di Jonathan Hyde su quanto sia distruttivo l'uso degli smartphone e dei social a scuola è quasi come se Shen Yun fosse all'avanguardia su questo le persone che hanno creato Facebook e Google non lasciano che i loro figli usino internet Steve Jobs non faceva usare l'iPad ai figli noi qui seguiamo il loro esempio per mettere le cose in prospettiva una volta ho sentito questa cosa divertente chi alla fine della vita si sdraia sul letto di morte si guarda indietro e dice peccato vorrei aver trascorso più tempo allo smartphone uno la vita preferisce passarla a fare le cose che contano con le persone che contano persone vere questo articolo dice anche che quando decidete di smettere quasi vi viene impedito come se non fosse permesso andarsene voi come rispondete? io me ne sono andato io conosco tante persone amici ed ex colleghi che hanno pensato che questa carriera non fosse adatta loro e l'azienda non ha opposto nulla di solito la direzione ne parla con te c'è qualcosa che possiamo fare per migliorare le cose alcune di queste persone non si sono trovate bene forse per un po' di tempo e la direzione ha parlato con loro più volte facendo passi indietro concessioni cercando di migliorare la loro situazione ma alla fine hanno deciso che non faceva per loro e se ne sono andati senza problemi come è giusto che sia in una gestione responsabile un mio caro amico era un ballerino molto talentuoso una volta chiacchierando parlava del suo futuro voleva forse cambiare campo perché era interessato alle scienze un paio di giorni dopo è andato dalla direzione ha detto cosa pensava e il giorno dopo se n'era già andato rapido e indolore gli artisti che lavorano con Shen Yun praticano il Falun Gong e persino i principi del Falun Gong hanno questa libertà di entrare e uscire non ci sono registri non firmi né contratti né niente prendi un libro lo leggi e se ne condividi gli insegnamenti inizi a praticare tutto qui e forse in futuro la mia prospettiva cambierà e non vorrò più studiare anche questa è una tua libera scelta non c'è mai nulla di forzato in alcun modo sia negli insegnamenti del Falun Gong che nel modo in cui viene gestito Shen Yun il Falun Gong una pratica spirituale di scuola buddista è stato diffuso nel 1992 e ha rapidamente guadagnato popolarità in Cina per i suoi benefici alla salute e per gli insegnamenti basati su verità compassione e tolleranza quando un sondaggio del 1999 ha rivelato che in Cina c'erano da 70 a 100 milioni di praticanti il partito comunista cinese ha iniziato a perseguitarli milioni di praticanti sono stati mandati nei campi di lavoro molti sono stati torturati e altri sono stati persino uccisi per i loro organi il PCC nega tutto ma questi sono fatti accertati senza ombra di dubbio da numerose organizzazioni per i diritti umani investigatori indipendenti e denti governativi Shen Yun in un momento dello spettacolo rappresenta sul palco questa persecuzione quindi c'è una specie di messaggio del Falun Gong nello spettacolo in questo articolo c'è l'idea che vi sia un qualche messaggio subdolo e nefasto abbiamo scene che raffigurano la persecuzione del Falun Gong e questo è solo raccontare le cose come stanno i fatti noi non ci inventiamo nulla noi raccontiamo cose che non escono dalla Cina i media mainstream non ne parlano e il PCC di certo non ve lo dirà mai ma questa è una cosa che è successa alla mia famiglia mio zio e mia zia sono rimasti senza casa per dieci anni in Cina solo a causa della loro fede non hanno fatto nulla di male erano normali contadini in Cina persone molto semplici ma erano praticanti la polizia lo ha scoperto ed è venuta a prenderli sono riusciti a scappare prima che la polizia li prendesse e per dieci anni hanno vagato per la Cina perché non va bene parlare di una cosa del genere e cosa c'è di strano in una fede che unisce le persone o le rende più forti senza questo io forse sto solo ballando per me stesso e per la mia fama per il successo di un'azienda di sicuro ma c'è anche un ulteriore livello che è molto più profondo io non capisco il perché di tante connotazioni negative noi abbiamo personalmente sperimentato i miracoli la bontà e l'armonia che il Falun Gong ha portato la nostra comunità basta guardare la nostra classe quando gli studenti stanno insieme con sincerità con passione tolleranza tutti lavorano insieme benissimo se c'è un conflitto pensi che l'altra persona abbia torto ma noi nella nostra comunità facciamo un passo indietro e pensiamo forse sono troppo duro forse non sono stato abbastanza comprensivo e naturalmente i conflitti si risolvono molto rapidamente questo tipo di ambiente è davvero difficile da trovare il Falun Gong è da sempre non violento e anche Shen Yun è da sempre non violento noi non stiamo cercando di nascondere proprio niente se uno va a Pechino e apre uno striscione che dice verità compassione tolleranza e poi viene arrestato e incarcerato già solo con questo capisci che tipo di persone siano quelle che vogliono cancellare queste tre parole che sono parole bellissime e sono i principi a cui cerchiamo di attenerci e ora ci accusano di voler diffondere qualcosa di losco oscuro strisciante e misterioso noi siamo persone molto trasparenti diciamo sul nostro sito web che pratichiamo verità compassione tolleranza io non mi vergogno di dirlo io non ho niente da nascondere e tutti gli insegnamenti sono online puoi andare online e scaricare tutto gratis e se tutti intorno a te seguissero verità compassione tolleranza puoi immaginare quanto sarebbe diverso il mondo noi siamo uniti da questi principi ma non in modo forzato più in modo filosofico nel modo in cui una fede unisce le persone stiamo cercando di condividere un messaggio sì forse se tutti i giornali parlassero della persecuzione e dei fatti reali forse non ci sentiremmo così obbligati a metterla nel nostro spettacolo perché siamo l'unica voce che c'è per noi la spiritualità è una parte molto importante della cultura cinese e della nostra storia per migliaia di anni come il buddismo il taoismo è stata parte della cultura cinese io sento che il Falun Gong è una continuazione è l'equivalente moderno della nostra spiritualità quindi naturalmente c'è nel nostro spettacolo perché è una parte di noi ma che qualcuno prenda questo e lo usi contro di noi penso che sia molto ingiusto perché non è che costringiamo il pubblico a pensarla come noi o qualcosa del genere noi ve ne parliamo vi parliamo della nostra storia Minghe Liu ex ballerino di Shen Yun ora insegnante di danza in una scuola privata racconta che il regime cinese ha cercato di impedire di rappresentare la persecuzione io ho lasciato la compagnia molti anni fa ma qualche anno fa mio zio in Cina mi ha contattato e mi ha detto la polizia è venuta qui e mi ha chiesto se ha un nipote in America che è associato a Shen Yun e l'hanno fatto con tono minaccioso del tipo è meglio per te se gli dici di smetterla altrimenti potrebbe succederti qualcosa quindi a quanto pare anche qui io sono seguito e io sono cresciuto qui negli Stati Uniti sono un cittadino americano e vengo spiato spiano gli americani eppure questi giornali americani praticamente si schierano dalla loro parte fin dal primo giorno abbiamo incontrato problemi l'anno scorso le gomme del nostro pullman sono state tagliate un fuoro sul lato in modo che le gomme non scoppiassero ma collassassero in autostrada e ci è successo spesso l'anno scorso abbiamo ricevuto una telefonata che diceva che avevano messo una bomba hanno creato un account X falso per diffamarci al partito comunista non piace quello che facciamo questo genere di articoli insomma vanno presi con le pinze l'arte di Shen Yun guidata dai principi di verità compassione e tolleranza è profondamente radicata nella cultura tradizionale cinese la cultura tradizionale cinese include la convinzione che la grande arte l'arte che realmente ispira ed eleva può essere prodotta solo da individui con un forte carattere morale la cultura cinese è intrinsecamente ed è sempre stata per migliaia di anni spirituale spirituale nelle sue tradizioni buddiste e taoiste e l'aspetto confuciano è solo una parte di quello che è se separe la spiritualità dalla cultura non resta più nulla questa era l'anima innata della cultura cinese prima che il comunismo prendesse il potere non c'è nulla nello spettacolo che costringa o che insista nel promuovere una fede o religione nel nostro pubblico ci sono cristiani buddisti atei noi qui raccontiamo qualcosa che sta realmente accadendo c'è questa grave ingiustizia c'è questa violazione dei diritti umani nessuno ne parla per cui lo facciamo noi il Falun Gong è in linea con la direzione dello spettacolo perché è una pratica spirituale sta riportando in auge molti degli elementi spirituali che sono spariti nella società parliamo di Buddha parliamo di Tao e Dei e il Falun Gong si collega a questo attraverso la tradizione per concludere cosa sperate che accada dopo? le aziende mediatiche hanno una grande responsabilità io spero che possano essere responsabili nei confronti del pubblico americano e questo significa dare sul serio voce ad ambo le parti e fare delle ricerche serie perché un semplice articolo può fare molti danni e incoraggio le persone a pensare davvero con la propria testa e a guardare il contesto di come vengono presentate le cose io vorrei che il mondo ascoltasse l'altra campana le nostre esperienze personali e vorrei che potessero vederlo coi propri occhi che venissero a vedere lo spettacolo e decidessero da soli cosa pensano sia giusto beh, è stato un vero piacere avervi tutti qui grazie grazie abbiamo parlato con decine di altri artisti di Shen Yun del passato e attuali le cui esperienze confermano quello che avete sentito oggi abbiamo anche pubblicato diversi servizi che approfondiscono gli articoli del New York Times su Shen Yun e mostrano quanto spesso le narrazioni di quel giornale rispecchino quelle del regime cinese grazie per aver guardato questa puntata speciale di American Thought Leaders da Jan Jekielek grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti